Presidente Sartorelli, su Viale Marconi si continua a discutere, a dibattere, anche l'Automobile Club di Pescara ha voluto dire la sua. Voi avete delle perplessità, qualcosa che secondo voi non va per il meglio e anche per una problematica che riguarda l'incidentistica stradale? Noi siamo intervenuti già nel novembre del 2021 proprio per dare alcuni nostri suggerimenti, per carità, poi possono essere accettati o meno, ma pensavamo già all'epoca e lo abbiamo ribadito in questi giorni che la nuova viabilità studiata su Viale Marconi crea delle difficoltà solo ed esclusivamente sulla sicurezza stradale perché gli utenti deboli non sono sicuramente tutelati. La larghezza della strada non consente a nostro avviso quattro corsie, è difficile per i ciclisti, è difficile per i pedoni ma è difficile anche per gli automobilisti cercare di capire cosa sta succedendo perché i lavori stanno durando forse un po' troppo. C'è anche una problematica di incidenti, comunque di tamponamenti? Gli incidenti ci sono stati, ci sono stati in corrispondenza delle rotatorie e ci sono poi altre piccole cose. Adesso l'incidente della bicicletta di quella ragazza è quella che forse è arrivata alla ribalta rispetto a tante altre piccole cose cose tra autovetture quando non vengono coinvolti pedoni per fortuna è tutto bene. Noi siamo meravigliati anche perché questa amministrazione sta facendo grandi cose per la mobilità. Noi apprezziamo molto il lavoro dell'assessore Luigi Arbore Mascia perché sta cercando di risolvere alcune problematiche antiche, antichissime. Certe volte non condividiamo il metodo che viene utilizzato per certe scelte. Però questa ci sembra una contraddizione, quella su Viale Marconi, questa tenacia con cui si insiste in un progetto che ha visto già tante piccole varianti in corso d'opera che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. Stiamo vedendo adesso solgere dei semafori e non riusciamo a comprendere e quindi ci sembra strano.